Mi chiamo Roberto Busseghi e vengo da Osmate Karate Ogni mattina mi presenta Pizzarrone e faccio la tua canna e voglio un canna laura Mi chiamo Loris J. Bernasconi, ho circa 40 anni, in realtà ne ho 44 ma facciamo cifra tonda Vivo con la mamma da alcuni anni praticamente da sempre Lascio una breve introduzione anche all'amico azzurro e poi cominciamo con il figlio Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto Doubleview Busseghi No non è vero, Roberto Busseghi basta, faccio un mestiere di nicchia Un mestiere che sta prendendo piede in Ticino da qualche anno ma che a voi non dirà niente Perché è una cosa proprio così, ancora locale, cioè mi sono un frontaliere Non gli dice niente, non è neanche tutto schivare dei coltelli di plastico È un fenomeno ancora marginale No, io volevo ringraziare le vere guardie di confine che sono degli amici veri per noi Che ci hanno sempre Come la famiglia che non ho mai avuto Che sono qui in sala, un grande applauso per quello che fanno ogni giorno Davvero a favore della collettività Per avere avuto il grandissimo senso dell'umorismo di assumere lui nel corpo delle guardie Ci avviamo verso la coda Lui è un azzurro, è uno di quelli doc proprio L'idea è l'idea di fare un bel ponte trasvisto in Italia Eh sì, un'unione Pronti? Questo è il filmino Questo è il filmino, quindi ci siamo di sicuro Mi chiamo Roberto Busceghi E vengo da Osmate Karate Ogni mattina mi presento a Pizzarrone Passi la Dugano e vuoi Lugano alla ora Mi chiamo Roberto Busceghi E vengo da Osmate Karate Ogni mattina mi presento a Pizzarrone Passi la Dugano e vuoi Lugano Sera Ura!